Sette casi su 1.035 tamponi analizzati, pare allo 0,67% di positivi sul totale. Si chiude con uno dei dati più confortanti dall'inizio dell'emergenza il mese di aprile in Abruzzo. Un mese nel quale mai erano stati così pochi nuovi casi di positività e che fanno salire di poco il bilancio complessivo a 2.930 pazienti affetti da Covid-19. Questo è il risponso dei test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti. 306 pazienti, meno 3 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 16 meno 3 in terapia intensiva, mentre gli altri 1.593, meno 55 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASLE. Continuano però a salire anche le vittime, 5 in più rispetto a ieri, e che portano il triste computo a 320 decessi. 695 sono invece guariti, più 63 rispetto a ieri, di cui 215 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici, e 480 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 37.996 test, di cui 32.608 sono risultati negativi. Nel totale dei casi positivi, 243 si riferiscono alla ASLE Avezzano sul Monalacuila, 757 alla ASLE Lanciano-Vastochieti, 1292 alla ASLE di Pescara e 638 alla ASLE di Teramo. I 7 casi di oggi invece sono così ripartiti, 6 alla ASLE di Pescara, 1 alla ASLE Lanciano-Vastochieti, mentre non si registrano nuovi casi nelle ASLE di Teramo e in quella Avezzano sul Monalacuila.